Ciao a tutti e benvenuti da Tina e Tipo Review e oggi siamo qui con i nuovissimi Skiffy Doll Plasti Slime! Il primo slime 7 in 1 ragazzi! Infatti all'interno di ogni scatolina ci sono 7 colori bravo, 7 colori! Noi abbiamo 14 colori! Bravissimo, 7, 7! Allora, lei mi ha scelto una testa, io ho scelto Dreambox perché ha i temi del rosa e del viola e io Ramboxbox! No, Rainbowbox perché a Pippo piace tutto l'arcobaleno e ha tutti i colori fatti dell'arcobaleno all'interno Allora, sono veramente bellissimi, sono anche profumati ragazzi, quindi proprio bellissimi Allora, iniziamo a aprire da qua, intanto ragazzi, anzi Pippo, vi volevo ringraziare per tutti gli auguri di buona guarigione che gli avete fatto E vi dico che sto meglio, sto meglio, domani io entro da scuola Allora, io apriamo, bellissimi, fatelo solo vedere da qua, questa è una leggenda E adesso lo vediamo più da vicino Questo è il Rainbowbox, veramente bellissimo, dei colori fantastici E questo cucciolo? Ok, togliamolo un po' È il mio! Wow, adesso vi faccio vedere anche il mio No, no Eccolo qua, Dreambox, bellissime, ha il viola, le tonalità di rosa No! E' una figata Allora, tipo, vai, fa vedere il tuo prima Guardate che bello Com'è la consistenza? Bella Bella È bella pastosa, diciamo Sì? Vediamo, io prendo il viola Non fallo che... Prendo il mio, prendo il mio Vediamo un po' Ognuno si... E la cosa bella è appunto che potete creare tantissime infinite sfumature, ecco, colorazioni Allora, com'è l'arcobaleno? Aspetta Mi copio dall'arcobaleno Tina Eh? Io faccio l'arcobaleno, ragazzi Ah, perfetto, qui c'è l'arcobaleno Allora, invece volevo prenderne due, ad esempio, anzi tre E volevo attorcigliarli come i marshmallow Sapete quei marshmallow con tre colori, no? Non c'è l'arcobaleno! Eh vabbè, lo metti in rosso Ok, che ne so, così E poi si attorciglia Wow, saperebbe proprio un marshmallow, ragazzi Ragazzi, questo è un arcobaleno Sì, bravo, Pippa sta facendo un arcobaleno L'ho già finita Bravissima Il bianco dove lo metto? Che bello, ragazzi Poi naturalmente adesso io li mischio Tina Li giro così Ah! No, no Allora, ha una consistenza molto molto piacevole, ecco Pastosa Pastosa, sì Molto bello Guardate che bello Che belle colorazioni Andiamo un po' adesso che colore Vedete? Formate delle sfumature nuove E bellissime Guardate che bello Wow Io adoro Infatti ho scelto proprio questo qua No, ma quando scrivo Pippa e Tina? Sì, infatti Facciamo la nostra scritta Naturalmente non scriviamo proprio Tina e Pippo Review Magari scriviamo T Le nostre iniziali Ok, Tina così T e P Poi lo facciamo magari col giallo, dai No Ma col bianco No, 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 il marrone lascia la Pippo che l'ho appena fatto Il mio colore più finito è l'azzurro Ah, e me dammi l'azzurro Così T e P E poi facciamo una bella R La facciamo col verde La faccio io Poi Cosa faccio? Arancione Aspettate che non vedo La la manca qui eh E poi Sì Magari tagliamo un pochino Sennò viene troppo lungo Ok Aspettate Ecco qua Wow Senza farò un po' sembrotto dei colori dell'Italia Li mischiamo lì tutti Mischiamo lì tutti Vai Pippo Ma io No io Ok Wow Vediamo un po' che cosa Che sfumatura esce Che colore Ne Due bussine No Tutto colorato Fai provare Pippo Un cobaleno Vediamo un po' così Lo faccio vedere da vicino Guardate già così Che bello Cioè lo lascerei già solo così Anche questo Anche questo di prima Sì dai Mischiamoli tutti ragazzi Wow Bellissimi questi qua Sempre in uno Vai Ma fa male Vai vai Ti dobbiamo aiutare Solo io Ok Mischiamoli Ok Mischiamoli Mischiamoli Pippo come per mischiare Perché ci va un po' di forza Io sono fatte Cioè io lo lascerei già così Guardate che bello Che bello dai Quindi ragazzi Che dire Sono dei bellissimi Skiffy Doll Plasti Slime Sono veramente bellissimi Quindi Plasticosi Ecco Di questa consistenza Particolare Che io Ho molto gradito Anche te Pippo Ci è piaciuto tantissimo Fateci sapere Sotto nei commenti Se anche voi Piace Questo nuovo Skiffy Doll Che colorazioni avete Perché naturalmente Non ci sono solamente Queste due Ma anche altri Altri colori Per creare tantissime Infinite sfumature Bellissime E naturalmente Poi hanno un profumo Pazzesco Al bacio Quindi Bellissimi Ancora di più E mi raccomando Fateci sapere Questi nei commenti Se volete altri video Del genere Di slime Così ne faremo presto Altri Anche se comunque Vi possiamo già dire Che presto ci saranno Molti altri video Di slime Avete visto che Ce li vedete Tantissimi Prima di concludere Il video però Vi volevamo ricordare Che sui nostri profili Instagram e Facebook Vi teniamo sempre aggiornati Sulle nostre nuove novità Nuove novità Sulle novità Sulle novità Del nostro canale E in particolare Certe volte Mettiamo Spesso Delle anticipazioni Del video Che uscirà Il giorno dopo Quindi Ne vale la pena Seguirci Sui nostri profili Instagram e Facebook Vi lasciamo lì Ragazzi No Toglio il posto Slime Pippo Wow Che bello Vediamo la consistenza Guardate che bello È cotta Molto bene Bellissimo Ok Adesso ci mettiamo A tagliarlo Facciamo come fanno i testi Quindi ragazzi Mi raccomando Se hai piaciuto questo video Mettete Un bel pollice in su C'è Sette Il nostro canale Così Ma tanti Adesso Buona Bravi Bravi Perciateci Bellissimi Commenti Come fate Sempre Vi ringraziamo Tantissimo E quindi Saluti da Tina e Taglio Il slime E Ciao Tina si Messa di Guai Ciao Ciao Grazie a tutti.